Buon saluto a Nair da Carowat, ragazzi oggi super scherzo a Susie che non sa nulla ovviamente Ho il cellulare nascosto sulla macchina, super scherzo, ignorarla per 24 ore Non so se ci riuscirò per 24 ore perché sicuramente si super incazzerà Adesso vedremo, stiamo andando a prendere Vediamo che cosa succederà, la ignorerò completamente per 24 ore Non ci riuscirò mai, non mi avendo il patrone Se il cazzello ha seguito la mia tantissima Mi è poi ignorato Poi dopo prenderci la mano e lei nascosto Poi 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 Non è solo una zanzara Andiamo Andiamo Spieghi che hai, perché non parli? Ma? Ma sei arrabbiato? Ma? Ma sei arrabbiato? Ma? Perché non mi parli? Vabbè, quando ti passano dici Ma non è che mi puoi accompagnare, per favore, che devo prendere due cose Ma? Ma sei sordo? Mi accompagni? Ma che parlo sola? Ma ti puoi sapere che hai, che sei uscito così la casa? Senza motivo Ma ti ho fatto qualcosa, sei arrabbiato Ti ho fatto qualcosa Vabbè, va Quando poi ti torna la parola, poi me lo sai dire Ma perché hai parcheggiato così lontano? Ma mi dai retta? Sto parlando Non mi dai, mi dai, che sia così lontano Ma No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.